I rossoneri della Sarzana che volevano venire in avanti però dalla parte opposta va Puccinelli e sblocca subito il risultato all'inizio della partita. Niccolò Puccinelli a difendere la pallina, la tocca indietro per il proprio capitano Puccinelli. Smarca Danna che si volta e realizza il gol del 2 a 0 su assist di Niccolò Puccinelli. Puccinelli con cui hanno iniziato la partita Danna, Muglia ha aperto la pallina e c'è il gol. A fondo di Rosi realizza un'autorete, si può dire involontaria. Di Tognacca, niente male, che poi spinge dal dietro Puccinelli e c'è il blu. Muglia è pronto, parte, vediamo se tenta la botta secca oppure se tira accompagnato. Ecco l'accompagnato cercando di superare il portiere che però è bravo. Danna spinto, va a terra, l'arbitro dice che si può proseguire e c'è il gol ancora da parte di Pistelli. Da parte di Gomez e c'è Puccinelli, grande gol. Manovrata la pallina si volta e c'è il gol di Romeo Danna, proprio da attaccante, quelli d'aria di rigore. Gemignani allontana, poi spinge un avversario, c'è il gol di Romeo Danna. L'arbitro ha fatto continuare l'azione, Romeo Danna è andato in gol dalla panchina del Sarzana, protestano.